Registro, Mordin Solus, 178.3, cura di Melon scombussa la risposta autoimmunitaria, femmine Krogan stanno morendo. Dati di Melon descrivono procedure, individuato suo errore, applicazione forzata per alterare i livelli ormonali. Mostra quanto era caduto in basso. Lieto di aver salvato dati, sviluppato antidoto, salvato almeno una femmina. Gli animali sulla situazione, non è venuto che stavano accadendo la sala di spazio, dovrebbe trattarsi di una sala di spazio, tutti ai propri posti. Rinchiudete immediatamente tutti i soggetti sperimentali. Forza rinchiusi. Che tipo di problema? Riparatela. Registro, Mordin Solus, 162.3. Usato conoscenza SOS per trovare questa stazione. Ottenuto autonomia con soggetti sperimentali, Krogan. Femmine stanno ovviamente morendo. Esperimenti barbarici. Colpa di Melon. Mia responsabilità a rimediare. Devo salvarle. Niente più. Niente più morti. Qualcosa non va nell'ascensore, non risponde. Ecco, provi ora, comandante. Comandante Shepard, sta bene? Esiste un'altra via d'uscita. Sull'altro lato del laboratorio, uscita d'emergenza. Possono aprirla da qui. Shepard, forze di Cerberus. Tentano di localizzare Femmina. Posto di blocco di quarantena sotto attacco. Presto! Inclusire il materiale da lì da 1 a 3. Squadra di terreno in azione. Shepard, Weevlax, ho preso la navetta. Fai il possibile per portare la Femmina alla zona d'atterraggio. Intanto cercherò di rovinare la festa a Cerberus. Peggio di quanto pensassi. Fuoco nemico dalla posizione terza e quattro. Mandatemi in atto. Conseguo nuova. Conseguo a dare. Non esiste c'è. No, ma non esiste. D'esiste, due uomo. No, non esiste, due uomo. Lecce o lontalma. Non c'è un domande. Dobbiedi un� E arriveranno ancora E arrivano altri Non lasciateli rintanare nel laboratorio E rintanare nel laboratorio La femmina non durerà a lungo Contro una tale potenza di fuoco Shepard, Cerberus nelle vicinanze Presto! Stiamo arrivando Attenzione! La specie 732 Yag è stata autorizzata All'elevazione in segretezza Sono i candidati ideali Per espandere l'influenza salarien Senza generare sospetti Il rischio è minimo Facile dirlo Finché non hai un faccia a faccia Con uno Yag Attenzione! E' un'esempio di Yag In libertà Attenzione! E' un'esempio di Yag In libertà Attenti! Eccoli la prossima ombra Giorerai di averlo sentito Pronunciare la parola Solo Sì Attenzione! Io sono arrivato a terra Di sicurezza E' un'esempio di T-1 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 Shepard Truppe Cerberus Presso a destinazione Vogliono uccidere la Croga Servi aiuto Facciamo riscattare! Vedo il posto di blocco Sono sotto a tanto Andiamo a entrare là dentro Nemico ancora presente Capsula sotto attacco Sì, sto parlando Cerberus ha circondato Capsula Shepard Serve aiuto Presto Shepard Tecnico morto Dobbiamo arrivare A posto di blocco Tutto bene? Scudo di contenimento integro Cercherò di riparare se necessario Ma salute Crogan Non valutabile Sto bene comandante Femmine erano segreto Possibile talpe in SOS Forse indottrinata Senza alleanza Crogan-Turian Raziatori saranno invincibili Non hanno fatto i conti con noi Shepard Troviamoci al prossimo blocco Probabile che Cerberus attacchi Presto Prossimo blocco Aisi Studi Dov'è la squadra Minorna? Sbrigati Shepard. Cercherò di attirare una parte del loro fuoco. Shepard, l'ultimo attacco ha danneggiato i sistemi di sicurezza. Sto cercando di compensare. Resisti Martin. Sto cercando di tirarti fuori. Così può bastare. Cerberus non scherza. Sono indottrinati. Non sono padroni delle loro azioni. Comandante, stai dietro. Venici in fondo al corridoio. C'è modo di aggirarli? Diciamo pure di sì. Perché non ho una di quelle cose? Forza, comandante! Alla copertura ci penso io! Squadronio, avete ordine di mantenere la posizione e di pensare all'accesso al prossimo corpo di prova. Sembra che Cerbero... Di copro via, comandante! Avanzo dove? Uno scontro diretto ci farà pezzi, Shepard. Potremmo riuscire a prenderli sul fianco. Dobbiamo distruggere quelle torrette. C'è un po' di più. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.